Il finanziamento per le fognature in arrivo a 1.679.000 euro per il completamento della rete fognaria di Bonagia e il finanziamento previsto nell'ambito del patto per la Sicilia firmato dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Pulizia straordinaria al porto. La Capitaneria di Porto di Trapani ha disposto un intervento di bonifica nelle banchine e nello specchio d'acqua del porto Peschereccio a Trapani. Proposta la tassa di scopo approvato dalla Quarta Commissione dell'Ars e l'amendamento dell'onorevole Mimmo Fazio che punta all'introduzione di un'imposta da destinare alla mobilità turistica. Nuovo direttore artistico Moniumatia guiderà la stagione teatrale e gli eventi culturali a Marsala. Piena fiducia a Cosmi con un comunicato ufficiale la società ha voluto smentire alcune voci sul suo esonero. Buon pomeriggio, benvenuti alla seconda edizione del nostro TG Sud che apriamo con questa notizia. ha finanziato nell'ambito del patto per la Sicilia il completamento della rete fognaria a Bonagia. Il Presidente della Regione Sicilia ha firmato insieme al Presidente del Consiglio dei Ministri il patto per la Sicilia che prevede per il Comune di Valderice un ulteriore finanziamento di 1.679.000 euro per il completamento e la ristrutturazione della rete fognante di Bonagia. Da qui l'avvio da parte dell'amministrazione comunale di Valderice guidata dal Sindaco Minospezia dell'ITER per la predisposizione di un secondo stralcio esecutivo dando incarico ad un gruppo di tecnici. Questi lavori si vanno ad aggiungere a quelli già appaltati nel mese di settembre relativi alla realizzazione del progetto per l'adeguimento dell'impianto di depurazione di Contrada Anna Maria. Abbiamo dato incarico ai progettisti di redigere un secondo stralcio esecutivo per la realizzazione della rete fognante a Bonagia. Quindi, oltre all'intervento che prevede il rifacimento del depuratore di tratti della condotta, lavori che già sono stati appaltati in via provvisoria, abbiamo ottenuto un altro finanziamento di 1.700.000 nell'ambito del patto per la Sicilia e quindi ci stiamo attrezzando con il progetto esecutivo. Non appena avremo il decreto potremo portare anche questi lavori in gara e poter realizzare la rete fognante su Bonagia. Quindi su tutto il territorio. Quando partiranno i lavori al depuratore di Villaggio Anna Maria? Allora, noi abbiamo effettuato la giudicazione provvisoria, dopodiché l'ulteriore iter è di competenza esclusiva dalla Regione che per il tramite di una società curerà gli ulteriori adempimenti. Quindi siamo in attesa che la Regione dia il via libera perché sono stati commissari di tutti questi tipi di interventi in Sicilia, tra cui anche il nostro e sarà direttamente l'assessorato a seguire l'iter amministrativo per la giudicazione definitiva e l'avvio dei lavori. Quindi si spera a tempi brevi? La struttura commissariale è stata creata proprio per accelerare ancora di più l'iter. Io sono fiducioso, mi auguro che nelle prossime settimane possiamo avere una buona notizia e quindi iniziare finalmente i lavori per questo tratto di territorio e quindi dotare la versante nord del territorio di questa importante infrastruttura. Andrea Di Pasquale, Fiori Disaggine e collegamenti con l'Isolega a causa del forte vento di Scirocco, completamente isolata da ieri sera a Marettimo, il cui porto è esposto a venti provenienti da sud, mentre gli aliscafi, nonostante il mare mosso, sono riusciti a raggiungere Favignana. Il vento oggi soffia ad una velocità di circa 28 nodi con raffiche fino a 38. Per le prossime ore sono previste piogge, il tempo dovrebbe iniziare a migliorare da domani con i venti che gireranno ad ovest. La Capitaneria di Porto di Trapani ha disposto un intervento straordinario di pulizia del porto Peschereccio, rimossi rifiuti sia dalle banchine che dallo specchio acqueo del porto. Nel corso dell'intervento straordinario di pulizia sono stati rimossi rifiuti di ogni genere e tipo, sia dalle banchine che dal mare, dove galleggiavano cassette di pesce, bottiglie e quant'altro. Praticamente nello specchio d'acqua, compreso tra le banchine e il piazzale del Lazzaretto, si sono formati veri e propri cumuli di spazzatura portate nel molo di Nordo dai venti di Scirocco. Il che ha permesso al personale impegnato nell'intervento, tra cui molti cittadini che si sono messi a disposizione a titolo di volontariato, di poter prelevare rifiuti, portandoli a terra e quindi negli apposti cassonetti. Davvero ingente la quantità di materiale che si è accumulato a bordo banchina, frutto delle cattive abitudini di persone incivili che gettono in mare di tutto, in barba alle più elementari regole di rispetto dell'ambiente. Una vera e propria vergogna che dà un'immagine davvero degradante di Trapani, un quadro desolante a cui la Capitaneria di Porto ha cercato di porre rimedio, disponendo un intervento straordinario di bonifica che ha visto coinvolte anche delle aziende che, con autentico spirito di collaborazione, si sono messe a disposizione per rimuovere rifiuti e pulire le catitoie, anch'esse piene di tutto. Per non parlare di cosa è stato tolto dalle banchine, tra vecchie cime e materiale di diversa natura che aveva finito col trasformare il porto peschereccio di Trapani in una discarica a cielo aperto. Fatta la pulizia, adesso saranno intensificati i controlli della Capitaneria di Porto per sanzionare chi abbandonerà rifiuti sia in mare che nelle banchine. Gli operatori del mercato ittico lamentano sanzioni inique e largite dalla squadra a nona del Corpo dei Vigili Urbani. Interrogazione da parte del consigliere Nicola Lamia. Una interrogazione al sindaco Damiano a firma del consigliere forzista Nicola Lamia per lamentare che a seguito delle dichiarazioni rese dagli operatori del mercato ittico si denunciano diverse contravvenzioni rilevate dalla Polizia Municipale all'interno della struttura perché gli stessi operatori non sarebbero in possesso del registro di carico scarico né di altra convenzione per lo smaltimento di scarti di pesce catalogati come sottoprodotti di origine animale. Si aggiunga, scrive il consigliere Lamia, che nessun verbale viene notificato alla persona in oggetto ma che tutto si svolge con una semplice chiacchierata con domande cui l'operatore risponde senza poi essere avvisato con il rilascio di notifica del verbale della contravvenzione contestata ma la stessa arriva poi a domicilio senza possibilità di contestazione da parte dell'interessato. Lo stesso Lamia ricorda che sia opportuno portare a conoscenza dell'amministrazione comunale che all'interno del mercato ittico come dal regolamento approvato in consiglio comunale delle cooperative di pescatori o i singoli hanno diritto all'ingresso al mercato dopo aver fatto regolarmente domanda all'amministrazione per l'assegnazione del posto di vendita e che l'amministrazione deve provvedere a fare pagare all'operatore richiedente una determinata somma di denaro che serve per la fornitura dei servizi allo stesso. Non si capisce come alla dato tierna ancora non siano state assegnate le postazioni di lavoro e richiedenti lasciando gli stessi senza alcuna garanzia sulle normali condizioni igieniche di lavoro. Lamia chiede quindi al sindaco di convocare urgentemente un tavolo tecnico con gli operatori, le cooperative, i rigattieri, gli addetti ai lavori del settore insieme all'assessore al ramo e al comandante del corpo dei vigili urbani per fare chiarezza sulla vicenda. 405 migranti sono giunti questa mattina al porto di Trapani a bordo della nave Vossestia dell'organizzazione internazionale Save the Children. Si tratta di 316 uomini di 89 donne tra cui 6 in stato di gravidanza. Dopo le formalità di rito gli extracomunitari sono stati trasferiti all'hotspot di Milo. Condannato alla pena dell'ergastolo Gianni Melluso detto il bello e accusato dell'omicidio di Sabine Macarrone la donna italo-svizzera uccisa nel 2007 ritrovata poi in un pozzo nelle campagne di Mazzara del Vallo. La sentenza è stata pronunciata dalla corte d'assise di Trapani. Melluso è noto per essere stato uno dei grandi accusatori di Enzo Tortora. Approvato dalla quarta commissione dell'Arso una proposta dell'onorevole Mimmo Fazio per introdurre una tassa di scopo da destinare alla mobilità turistica. La quarta commissione ha approvato la proposta normativa formulata dal deputato regionale Girolamo Fazio con un emendamento alla legge di assestamento di bilancio che dà facoltà ai comuni e alle camere di commercio di introdurre una tassa di scopo sulle attività economiche legate al comparto turistico. La proposta emendativa ha ricevuto anche il parere positivo espresso dal governo regionale attraverso gli assessori al turismo Entoni Barbagaldo e alle infrastrutture mobilità Giovanni Pistorio. Il gettito che gli enti territoriali conseguiranno ha spiegato l'onorevole Fazio dovrà essere utilizzato esclusivamente per l'incremento della modalità turistica ed in particolare per il sostegno dei collegamenti aerei e marittimi. A riguardo il parlamentare terpanese pensa alla mobilità legata agli scali aeroportuali siciliani e alla mobilità da e verso le isole minori. Se questa proposta normativa sarà valutata positivamente anche dall'Aula, ha rimarcato Fazio, per lo specifico territoriale trapanese significherà aver individuato la misura per sostenere anche le politiche di co-marketing per l'aeroporto di Birgi. Trattandosi poi di una facoltà dei comuni e delle camere di commercio, la tassa di scopo può essere applicata con criteri progressivi o proporzionali e solo per alcune parti di territorio di competenza. Insomma, per il deputato regionale ci sono tutti gli spazi per una individuazione strategica condivisa tra enti e settori economici dei singoli territori. La previsione normativa in ogni caso dispone che l'importo della tassa non potrà superare la somma di euro 200 per singolo esercizio. Conferenza stampa ieri pomeriggio al Teatro Comunale Liodoro Sollima a Marsala per la presentazione del direttore artistico per la programmazione di tagioni teatrali e eventi culturali. Si tratta del maestro Salomone Ovadi, a più noto con il nome di Moni Ovadi al grande pubblico che ha accettato la nomina e svolgerà l'incarico a titolo gratuito. Siamo veramente orgogliosi e onorati del fatto che Moni Ovadi abbia deciso e accettato di essere il nostro direttore artistico dei nostri teatri. Marsala aveva questa carenza da anni, non c'era stato un cartellone del comune, non c'era stata una rassegna proprio del comune e noi pensavamo di veramente lanciare questa città in un circuito che vada oltre il nostro territorio e credo che questa opportunità che l'intellettuale, l'artista, la persona di altissimo livello nazionale e internazionale come Moni Ovadi ci offre è un'opportunità che dovremmo assolutamente cogliere. La città sarà inserita in un circuito che va al di là del nostro territorio, in un circuito di teatri per cui potrà attingere anche dei finanziamenti, potrà ottenere veramente degli spettacoli di altissimo livello nazionale anche in questa città, però coinvolgendo anche i nostri artisti, questa è la cosa interessante, ci saranno delle produzioni anche fatte dai nostri artisti che potranno ottenere questa opportunità di entrare nei teatri di altre città che non sono solo quelle marsalesi e locali, quindi è un'opportunità per tutta la città e noi siamo veramente orgogliosi e onorati di quello che oggi si realizza a Marsala, credo che sia un salto di qualità per il teatro marsalese. L'orizzonte col quale attiviamo questo processo sarebbe quello di dare spazio a un futuro perché il teatro a mio parere è una delle forme più importanti per l'identità non solo dei territori ma l'identità delle persone. Il teatro è un prodigio, è l'unico luogo in cui si può riflettere sulla verità del destino dell'uomo senza che questo sia pericoloso. Vorremmo molto anche fare qualcosa con gli artisti del luogo, magari cominciare con una piccola produzione per sviluppare un'idea di attivazione del teatro come futuro della città ma anche futuro di relazioni perché noi stiamo cercando di costruire una rete di cui vorremmo che Marsala facesse parte, diciamo perché col maestro Mario Incudini e anche col maestro Sebastiano Lomonaco, in modo da costruire un circuito e dei progetti che permettano soprattutto alle nuove generazioni di esprimersi. Ma non perché noi vogliamo, non abbiamo più le forze, ma semplicemente perché io credo molto nell'alleanza fra generazioni. Noi non ci dimentichiamo dei nostri artisti che sono bravi e sono tantissimi ma credo che Marsala, c'era bisogno di far entrare Marsala in un circuito nazionale e forse europeo insomma che abbiamo trovato la persona giusta, una delle persone riconosciute più ad altissimo livello non semplicemente in Sicilia ma in Italia e in Europa. Il maestro ci può aiutare, aiutare noi, le cittadine ma anche i nostri ragazzi e tutti quelli che fanno spettacolo ed io sono estremamente contento perché diventa direttore artistico a costo gratuitamente, a costo zero. Il coordinamento provinciale Donne Acli di Trapani in occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne istituita nel 1999 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite organizza una tavola rotonda intitolata non uccidereva, diamo voce al silenzio. L'incontro si terrà alle ore 16.30 presso la Sala Laurentina del Centro Pastorale Multifunzionale in via Generale Domenico Giglio nel Centro Storico di Trapani. Un convegno domani nella sede del Polo Universitario della Unicusano di Trapani sul tema illustrare le soluzioni auspicate dalla legge per sdebitarsi e non fare morire l'economia del territorio. Il servizio. Dare una speranza a imprenditori messi in ginocchio dai debiti e dalla morsa della crisi economica, illustrare le soluzioni auspicate dalla legge per sdebitarsi e non fare morire l'economia del territorio. Sono alcune delle tematiche al centro del dodicesimo seminario regionale organizzato dall'Università degli Studi Nicolo Cusano, Learning Center di Trapani, Castelvetrano e Vigevano, che si svolgerà domani, 25 novembre, presso il Polo Accademico Unicusano di Trapani. L'inizio dei lavori è previsto alle ore 17. Introduce e modera l'avvocato Salvatore Alagna, presidente della Camera Penale di Trapani. Interverranno Diego Carpitella, referente dell'organismo di composizione della crisi Camera di Commercio, l'avvocato Umberto Coppola, presidente dell'Ordine degli Avvocati, l'avvocato Marco Siracusa, vicepresidente della Camera Penale di Trapani. Nell'ambito del seminario verranno discusse le tematiche oggetto di studio del manuale Per non perdere la testa, scritto dall'ingegnere Vito Abate e pubblicato da Margan Edizioni. Oltre all'autore interverranno l'avvocato Giuseppe Sciascia Cannizzaro del Foro di Agrigento, l'avvocato Alessandro di Girolamo del Foro di Marsala e Monsignor Michele Crociata. Domani alle 17 presso la sede dell'Università del Mediterraneo per le Treta a Trapani in via 21 Aprile, un incontro finalizzato a prevenire i raggiri o gli atti criminali nei confronti dei cittadini, relazionerà il capitano dei Carabinieri Luigi Lupieri. I funghi del bosco di Scorace e lo zafferano di Nubia conquistano i palati palermitani. Il porcino di Scorace, diciamo che oltre lui aveva dei parti nel raffianco straordinari, insomma perché abbiamo portato un po' un pezzo di Trapani a partire dall'aglio di Nubia, a partire da una particolarità straordinaria, abbiamo fatto sotto questa crema di porcini, abbiamo fatto una passata di due patate, la badata che poi sarebbe la patata americana e una patata rossa sempre prodotta in Sicilia ma particolarmente ho usato dello zafferano che nasce nella nostra città, nasce a Nubia, un produttore diciamo novello nel campo dello zafferano perché è la prima fioritura che timidamente mi ha chiamato e mi ha detto se era possibile fare questo test e devo dire che è stato un test straordinario, un profumo pazzesco e il grande piacere, proprio l'emozione di avere un prodotto così prezioso e così ricercato che nasce in un territorio come il nostro. Lo sguardo altrove, il titolo della giornata di studio dedicata ai disturbi dell'autismo in programma domani mattina a partire dalle ore 9 presso la sala conferenze dell'Ordine dei Medici. L'iniziativa promossa dal Centro di Psicoterapia della Ollus Umanamente di Trapani di concerto con il Cipe e l'Ordine dei Medici della provincia di Trapani sarà un'occasione importante di riflessione e confronto su quelle che sono le acquisizioni più recenti sui disturbi dello spettro autistico in merito sia alla diagnosi precoce che alle possibilità di intervento attraverso il coinvolgimento di chi si confronta quotidianamente con la sofferenza dei bambini e delle loro famiglie. Il giornalista del TG5 Carmelo Sardo domani e sabato presenta a Erice il suo ultimo libro per una madre. L'Istituto Alberghiero di Erice in collaborazione con il Comune di Erice ospiterà domani alle 17.30 il giornalista siciliano Carmelo Sardo che già lo scorso anno nel mese di novembre era stato protagonista di un incontro con l'autore e con gli studenti della scuola diretta dalla professoressa Pina Mandina per presentare il suo bestseller Malerba scritto a quattro mani con l'ex killer di mafia Giuseppe Grassonelli Ergastolano, libro vincitore della 26esima edizione del premio letterario Racalmare Leonardo Sciascia, città di Grotta. La trasferta in provincia di Carmelo Sardo, vice caporedattore cronaca del TG5, durerà due giorni nel corso dei quali prima al Teatro Gebelamed e poi all'Istituto Florio presenterà il suo nuovo libro dal titolo Per una madre pubblicato da Mondadori. Domani al Teatro Gebelamed dopo i saluti del sindaco di Erice Giacomo Tranchida e del dirigente scolastico Pina Mandina, Carmelo Sardo presenterà il suo libro. Al termine seguirà un concerto della durata di circa 30 minuti del duo composto da Hanna Bulcac e Tiziano Amato, su opere di Tolstoi, Gherman e Le Cocco, tra gli altri. Il 26 novembre alle 11 invece Carmelo Sardo incontrerà gli studenti dell'Istituto Alberghiero nella storica sede di Casa Santa. Nel primo pomeriggio, sempre di sabato alle 15.30, l'autore incontrerà i lettori alla libreria Galli, partner della scuola nell'organizzazione della rassegna letteraria. Questa sera alle 21 a Trapani, nella chiesa del collegio dei Gesuiti, una veglia di preghiera presieduta dal vescovo Fragnelli contro la violenza subita dalle donne. Nel riconoscimento dei diritti della donna, ha dichiarato il vescovo, non sono ancora del tutto sradicati costumi inaccettabili. Anzitutto la vergognosa violenza che a volte si usa nei loro confronti, i maltrattamenti familiari e varie forme di schiavitù che non costituiscono una dimostrazione di forza mascolina, bensì un codardo degrado. Continua il prelato, la violenza verbale, fisica e sessuale che si esercita contro le donne in alcune coppie di sposi contraddice la natura stessa dell'unione coniugale. Così si era espresso nell'esortazione apostolica post-sinodale Amores e Letizia, Papa Francesco, denunciando lo scandalo della violenza sulle donne. Dopo l'ennesimo efferato omicidio di una donna, la signora Anna Manuguerra, nella frazione di Nubia e in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, il vescovo Pietro Maria Fragnelli presiderà una veglia di preghiera per le donne vittime del dramma così penetrante della sopraffazione e della violenza. L'incontro di preghiera si terrà questa sera presso la chiesa del Collegio dei Gesuiti a Trapani con inizio all'ore 21. Siamo allo sport, piena fiducia a Cosmi che resta con un comunicato ufficiale, la società ha voluto smentire alcune voci sul suo esonero. Basta con illazioni e false notizie finalizzate a destabilizzare l'ambiente. Si apre così il comunicato ufficiale è apparso sul sito del Trapani Calcio ieri nel primo pomeriggio. Una necessità nata per smentire alcune voci rincorsesi ieri mattina e apparse su un sito dedicato alla Serie B che avrebbero dato come avvenuto l'esonero di Cersei Cosmi. Nulla di tutto questo è realmente accaduto. Inevitabile che dopo 15 partite ed una sola vittoria ottenuta la società di Vio Orlandini abbia pensato alle soluzioni da adottare ma la scelta è stata fatta. L'allenatore Perugino resta sulla panchina granata, forte anche dei suoi due anni di contratto. Piena fiducia quindi e la società attacca. Da questo momento non intendiamo più tollerare illazioni ed affermazioni false da parte di chi evidentemente vuole provare a destabilizzare un ambiente che sicuramente sta vivendo qualche momento di difficoltà ma è sereno, coeso, impegnato e determinato nel proprio percorso per superare l'attuale situazione. Parole decise che rendono chiara la posizione della società che non ha ritenuto opportuno provvedere ad un avvicendamento in panchina per cercare di cambiare l'andamento del campionato. Posizione già anticipata dal direttore sportivo Pasquale Sensibile. Intanto continua la preparazione della squadra in vista della trasferta di sabato a Pisa. Doppia seduta oggi per la palacanestro Trapani che sta continuando gli allenamenti. Domenica trasferta latina. Ken Biglianisi ha parlato della vittoria contro Scafati e della prossima avversaria. È stata una partita difficile. Loro sono un roster lungo, completo sotto ogni punto di vista. Noi siamo stati bravi a partire subito forte, a imporre il nostro gioco a correre. Poi come al solito il terzo quarto abbiamo avuto una leggera flessione però rispetto alle altre partite siamo stati bravi a restare in contatto, a contatto con la partita. Non abbiamo mai mollato soprattutto con la testa. Siamo rimasti lì. Secondo me abbiamo fatto un grosso passavanti e alla fine l'abbiamo portata a casa. Da parte nostra non cambia nulla. Tutte le settimane, tutte le domeniche approcciamo il terzo quarto allo stesso modo, con la voglia di vincere. Probabilmente abbiamo fatto tra l'altro tesoro degli errori delle settimane passate e siamo riusciti comunque a restare lì nonostante magari qualche brutto attacco, qualche brutta difesa. L'importante che sapevamo era restare a contatto perché comunque era dove volevamo esserci. Latina non sarà una trasferta facile, loro sono una squadra molto intensa, alle volte possono anche essere tattici, l'allenatore è famoso appunto per i tatticismi, però noi comunque andiamo lì e cerchiamo di fare la nostra partita e appoggiandoci alle nostre basi che sono appunto solide cerchiamo appunto di vincere, noi andiamo lì per fare la partita. Gli appuntamenti per oggi, questa sera alle 20.30 e dalle 23, agora a cura di Wally Cammareri, alle 21.30, a mezzanotte e 30 per Babele, in sott'artamella, presenta il libro e l'intervista a Caterina Blunda Montanti, vedova dell'onorevole Montanti. Bene, è tutto, grazie per averci seguito, arrivederci con la seconda edizione del nostro TG. 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 TG.